Ciao a tutti, ho fatto questo video per mostrarvi come ho modificato il mio laptop HP ProBook 4540S facendolo diventare una macchina molto versatile con 4 sistemi operativi e una partizione di date in comune vedete qui ci sono queste 4 icone Windows 8, Fedora, che è una distribuzione Linux c'è Mac, Yosemite più la Recovery HD che è tornautile in caso di un ripressione da un backup di Time Machine quindi ho questi 3 sistemi operativi installati più ci sono 30 giga di una partizione di dati che uso per scambiare appunto dati tra i 3 sistemi operativi ma non è finita qui quello che ho fatto successivamente ho rimosso il disco DVD la slot del DVD ho comprato questo paddy case e ho installato un secondo hard drive questo è un hard drive SSD solid state hard drive molto molto veloce 516 giga e quindi ho installato su questo secondo hard drive maverick quindi MyX10 ma nella versione di maverick questo mi permette di avere due hard disk all'interno della stessa macchina e quindi mi permette di utilizzare la macchina in diverse situazioni ecco, vedete che adesso al secondo boot appare anche l'altra partizione che ho chiamato Packintosh e più il Recovery HD per l'altra partizione quindi praticamente ho 4 sistemi operativi su due hard drive e più una partizione di dati in comune di 30 giga ripeto, è una situazione molto versatile che mi permette di poter anche in alcune situazioni estrarre il secondo hard drive e portarlo con me e quindi lavorare in esterna oppure di utilizzare i sistemi operativi sulla stessa macchina questo è Windows 8 velocemente farò l'avvio di tutti i sistemi operativi solo per dimostrarvi che funziona tutto perfettamente questo è Windows 8.1 un sistema operativo diverso dai soldi da quelli ai quali Windows ci è abituato e abbastanza sono abbastanza nascoste le funzioni bisogna, come dire, smanettarci un pochino ecco, questo è lo screen sulla sinistra abbiamo le varie finestre e anche il pannello di dati di controllo e il menu e sulla destra invece abbiamo il menu per le impostazioni e anche per in questo caso per le funzioni di power quindi noi facciamo restart e e ripartiamo con Fedora all'avvio Fedora è una distribuzione Linux è un sistema operativo molto molto stabile probabilmente è tra i più stabili al momento e questa è la versione 21 l'ultima ed è un un open source quindi tutti i software sono distribuiti liberamente sono ovviamente è possibile modificarli è possibile di ridistribuire il source o fare delle migliorie se volete impegnarvi a farlo quindi ci sono tutte le source originali sono tutti programmi appunto gratuiti e liberi di scaricare e ridistribuire e ci sono molte molte cose interessanti all'interno di Fedora che vale la pena utilizzare e dare un'occhiata comunque queste sono le applicazioni standard che vengono di installazione però si possono scaricare da uno store altri pacchetti di distribuzione ok facciamo un logout ok facciamo un restart da Fedora e andiamo adesso a Yosemite questi tre sistemi operativi sono installati diciamo sul primo harddisk che è un harddisk di 750 giga standard harddisk cioè rotational harddisk quello rotazione e vedrete come adesso l'avvio di Yosemite è abbastanza laborioso in confronto all'avvio che vedremo dopo con Maverix che è installato su un harddisk di ultima generazione solid state hard drive SSD barra di caricamento Yosemite è l'ultimo sistema operativo di macOS 10 è un sistema operativo abbastanza particolare anche qui abbastanza diverso dai precedenti nella grafica e anche in alcune funzionalità qui andiamo nel guest user e questo è Yosemite la grafica riprende un po' EOS di iPhone e System Preferences vediamo la si beh solo per darvi un'idea di come poi in realtà tutto funzioni perfettamente ok facciamo restart e andiamo a vedere adesso andiamo sul secondo hard drive andiamo sul secondo hard drive che è un hard drive che ha preso il posto del lettore DVD che come ho detto è un solid state hard drive 516 giga e vedrete io che ho chiamato packintosh ho installato mavericks e vedrete la velocità di la velocità di avvio del sistema operativo con un booting time davvero notevole boom pronti andiamo su guest user velocissimo questo è mavericks nella versione 10.9.5 e andiamo a vedere System Preferences vedete che tutto funziona molto bene andiamo a vedere anche un po' di informazioni riguardo la macchina processore 2.4 allora vedete la partizione in mac Untitled è Windows data sono i 30 giga 29.4 giga di partizione comune di dati in comune e poi c'è Packintosh non c'è non c'è Linux non c'è Fedora non viene letta ma Fedora in realtà abbiamo visto che funziona e c'è la partizione la memoria è solo 8 giga e questo è tutto spero che questo video vi sia stato utile e che possiate fare altrettanto con la vostra macchina con il vostro pc e ricreare così questa situazione molto versatile dove avete addirittura 4 sistemi operativi tra cui scegliere e una partizione di dati in comune per poter lavorare sui diversi sistemi operativi utilizzando gli stessi file in più con l'opzione di poter portare estrarre portare con sé il secondo hard drive per utilizzarlo in altre situazioni in altri contesti come con un hard disk esterno ho provveduto a fornire tutti i link che ho utilizzato per fare queste modifiche alla macchina e in particolare ho utilizzato Clover Bootloader e Clover Configurator e inserito alcuni suggerimenti che penso vi saranno utili con i quali mi sono scontrato vi auguro una buona giornata in bocca al lupo e se il video vi è piaciuto passate parola grazie grazie